E ormai nella fase di rifinitura la preparazione di Sergio Romano, il Pugile Matesino, in vista del match di sabato prossimo a Ceccano contro Umberto Lucci. L'incontro rappresenta per il Pugile Matesino un test importante in vista di una nuova chance per il titolo italiano dei massimi che Romano sta preparando sotto la guida del maestro Geppino Corbo nella palestra della Matesina di Piedimonte Matese. Per me sarà un test importante, dice Romano, sulle otto riprese che io stesso ho preteso. Lucci è un Pugile che ho già battuto dal Vignano ma questo non significa che potrò sottovalutarlo. È fortissimo, sa tenere il ring come pochi e non regala nulla a nessuno. Sabato devo dare una risposta forte e convincente, conclude Romano, per rimanere nel grande pugilato. Sarà una guerra dal primo all'ultimo secondo. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it